Ti divertirai, caro amico mio, e diventerai come sono io, se vieni con me, se vieni con me, se vieni con me, partiremo in due verso l'avventura, salteremo insieme senza paura, se vieni con me, se vieni con me, se vieni con me, o togli quella crisi, e pressione, ora in poi, batta un po' di scala che è crisi, azione, aspetta, perché? Assometro, vieni con me, se vieni con me, vieni con me, so vieni con me, voi sei bellissimo zigro 2, ora imparerai a saltare come un tigro, ora salta, sal, e rimbalza a più, para viene con me, o togli una cro driversi, e poi vieni con me, se vieni con me, dobbiamo in due ges per il risultato, perché? Richiede energia, poi viene da me appena prendi il via! Vai, 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 fai forte, non dai, dai vieni con me, tu vieni con me, tu vieni con me! Ah, non è una bella novità, due tigri qui riuniti, io prima ero solo, ma in due si siamo divertiti. Siamo pronti? Per che cosa? Tu sei il tigro e io l'avresto, chi è che vince quello o questo? Scopriamo chi è, scopriamo chi è, scopriamo chi è! Fammi vedere che cosa fai quando ti trovi in mezzo ai guai, attento a te, attento a te, attento a te! Prendimi! Che fetti, dai! Solta, gira, colpisci, più mira! Forza! 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 Non smettere mai, non smettere mai, non smettere mai! Mai! Mai!